È in via di miglioramento la condizione del dodicenne colpito nel pomeriggio di ieri da un fulmine mentre seguiva gli allenamenti con la sua squadra di calcio durante il temporale al campo Celdit di Chieti. Soccorso dai sanitari del 118 in arresto cardiaco che prima lo avevano portato in codice rosso al vicino ospedale della Santissima Annunziata di Chieti e poi subito in rianimazione all'ospedale di Pescara. Attualmente rimane sotto osservazione ma è stato stubato e respira autonomamente con l'aiuto precauzionale di una mascherina. Al risveglio dalle prime parole avrebbe detto di essere tifoso del Milan. La famiglia con l'affetto dell'intera comunità è in attesa di riportarlo a casa.